Continuiamo le interviste ai partecipanti alla convention di 24 Finance, siamo qua con Bruno Bonifazi, fondatore e presidente della Bonifazi Group, franchising immobiliare presente e non solo, presente in Italia con due presidi in Florida e Miami, però con progetti di espansione, cosa prevediamo proprio per come espansione, intanto vediamo dove siamo presenti. Allora siamo presenti in Umbria, che è nata proprio la Grosso, il Corbins è in Umbria, poi si è espanso nel Lazio, Molise, Abruzzo, Toscana, Puglia e Calabria. Adesso l'obiettivo è Emilia-Romagna e Campania. Emilia-Romagna è perfetto, quanti siete oggi, quante agenzie? 31 agenzie, 12 in apertura e 2 aperte a Miami. Benissimo, in Campania ci aspettiamo anche un bel supporto. In Campania abbiamo la prima apertura, stiamo facendo il locale Caserta. Caserta, quindi ci siamo quasi. Sì, Caserta sì. Anche entro l'anno riusciamo a aprirla? No, l'inaugurazione è intorno al 20 febbraio. Ok, quindi ci siamo con la prima apertura in Campania, ce l'abbiamo. Questa bella partnership, 24 Finance, darà, come ha detto Rino, vi darà competenze a supporto del vostro lavoro, per riceverne poi competenze altrettanto da parte vostra. Com'è nata questa? Da una vecchia amicizia con Rino, che è fantastico, è un vulcano di te come il sottoscritto, e secondo me la sua competenza e la nostra rete, o come le altre reti, creano valore, perché danno la possibilità di poter a noi fatturare di più e dare quel valore in espresso a loro, direttamente a Rino, alla sua 24 Finance, che secondo me potrà creare un grosso volano per l'espansione non solo della nostra rete, ma anche l'espansione del fatturato di 24 Finance. Assolutamente sì. Cosa vi aspettate nel concreto, nel breve? Nel concreto, nel breve, una cosa che ci hanno detto che non pensavamo di vera, è di brandizzare da subito un prodotto di cessione del quinto, che noi veniamo da questo mondo nel finanziario, abbiamo fatto dei numeri strabiliati prima della pandemia con la cessione del quinto, e un po' meno con i muti, e quindi avere un prodotto brandizzato di cessione del quinto è molto importante. Molto bene, quindi entriamo con la cessione del quinto in un'agenzia immobiliare. In un'agenzia immobiliare che dà supporto alla compra e vendita. È certo. È da supporto. Benissimo. Allora, intanto grazie, in bocca al lupo per il prossimo apertura e a presto. Arrivederci, arrivederci. Allora, intanto grazie a tutti. Grazie a tutti.